Derby d'alta classifica, quelli in programma comunale dove i punti in paio sono importantissimi soprattutto per gli uomini di casa. Partita condizionata dalle numerose assenze da una parte e dall'altra, i locali sono orfani di Gori, fattori, radici della coppia Mantini e Farabegoli, anche se quest'ultimo siederà in panchina. Nell'Atletic Poggio spiccano quelle di Tomassoni, Cabori e Pracucci, Nicolini, Portival Marecchia, solo 15 unità. Pubblico delle grandi occasioni, coreografia da parte di Lutras della Nuova Feta, mentre vista panoramica in prima fila per lo squalificato Nicolini. La prima azione del match vede una lunga rimessa laterale di Cupi, Stefanelli piena aria, colpisce di testa, Sebastiani si oppone ma non riesce a bloccare la sfera. Che viene allontanata successivamente in fallo laterale dalla propria retroguardia. La risposta ospite non si fa attendere dal corner, Tassi Baio innesca Campanelli che di testa mette fuori. A ventesimo il Poggio Berni si divora i gol, Tassi Baio sulla sinistra lancia in area per Manfroni, la punta si trova in posizione regolare ma il suo tentativo di pallonetto con il destro si perde alto sopra la traversa tra l'incredulità della retroguardia di casa. L'occasionissima per il Nuova Feta capita al minuto 28, Cupi dalla destra crossa la sua terra, pallone sostanzialmente in oco, ma Pagliarani c'è che rinvio alla sfera arriva a Tommaso Raffaelli che di destro spreca calciando fuori. Su fine di tempo, velenosa punizione di Fraboni, Sebastiani le spinge corto di pugno, si accende una mischina in area di rigore ma Tommaso Raffaelli non capitalizza l'occasione. A quattro e cinquesimo il gesto di Fairplay di Succi che batte una rimessa laterale mettendo il pallone oltre la linea di fondo. In precedenza infatti l'arbitro Sintoni della sezione di Faenza aveva concesso la rimessa all'Atletic Poggio sbagliando la valutazione. Ad inizio ripresa Cupi dalla destra mette al centro questo cross che Tommaso Raffaelli aggancia strappando applausi con una splendida rovessata, conclusione comunque centrale e bloccata da Sebastiani. Al cinquattoduesimo Fraboni a questo punto ci prova da punizione recando più di un brivido a Sebastiani, mentre dall'altra parte Magnani prolunga di tacco un cross dalla destra, Manfroni gira a rete di destra in buona posizione ma la palla è alta sopra la traversa. Ancora Manfroni protagonista questa volta viene lanciato a rete ma viene fermato da una coraggiosa e decisiva uscita di Semprini fuori aria. Gli ospiti recriminano Manfroni rimane a terra ma Semprini nel contrasto prende palle e piede per salvaguardare la propria porta. All'ottantaduesimo Rinaldi calcia una punizione dalla sua metà campo, la sfera prolungata da Francesco Baldinini arriva a Bettini che da posizione di filata colpisce un incredibile palo. Con la sfera che percorre la linea di porta senza entrare, i repreci mostrano la sfortunata concursione del centrocampista entrato nel corso della ripresa. All'ottantaduesimo punizione dalla sinistra di Tazzi Baier, decisiva uscita con i puni di Semprini, mentre al 95esimo da una punizione di Frabori Bettini in aria colpisce di testa. La palla destinata a infilarsi a fin di palo viene respinta dal portirone dell'Atletic Poggio Sebastiani. Match che si conclude sullo 0-0 e tra i due litiganti, Godi Santermete che in attesa dei tre punti da ricevere con le armi a mare si porta a meno 5 dalla capolista e mercoledì sera in notturna comunale ci sarà proprio la sfida che vedrà i gialloblu opposti per l'appunto alla squadra del presidente Martino.